Scoop, il Grande Fratello 2023 sta per tornare alle radici, ma chi saranno i protagonisti di questa avventura televisiva? Siamo qui per svelare i pettegolezzi più succulenti riguardo al cast. Ma prima di cominciare vi invito ad iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace e attivare la campanellina. Grazie. Addio VIP, bentornati concorrenti. Sembra che ci sia una rivoluzione in corso e, grazie a Pier Silvio Berlusconi di Mediaset, siamo pronti a vedere le storie senza eccessi prendere il centro della scena. Che stravolgimento! Allora, chi avremo nella casa più osservata d'Italia? Il primo nome ad essere svelato da Alfonso Signorini è niente meno che Alex Schwaeser, il maratoneta d'oro delle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Con una storia personale e sportiva travagliata, è pronto per una nuova sfida sotto i riflettori. Che storia! Ma non finisce qui. Ancora non confermati, ma pronti a farci sognare sono Giampiero Mughini, il giornalista dallo spiccato temperamento, la star delle telenovelas Grecia Colmenares, la dolce voce di Fiordaliso e Samira Lui, l'ex professoressa dell'eredità e concorrente di tale e quale show. Saranno pronti a mettersi in gioco? E che dire di Ciro Petrone, l'attore di Gomorra, e Massimiliano Varrese, il volto amato da Il Bello delle Donne e Carabinieri? Non possiamo dimenticare Beatrice Luzzi, protagonista della sop di Canale 5 Vivere e di molte altre fiction di successo. Il suo nome è una garanzia. Ma non finisce qui, amici dei gossip. Potrebbero unirsi a questa avventura anche Alvaro Vitali, Claudia Colli e Arianna David. Non vediamo l'ora di vedere cosa succederà nella casa più famosa d'Italia. Restate sintonizzati e non dimenticare di iscriverti, mettere mi piace e commentare per ulteriori scopi retroscena sul Grande Fratello 2023.